Cari telespettatori, buonasera e bentornati a Primo Cittadino, questa nuova stagione che dà la possibilità, come anche gli anni passati, a voi di parlare direttamente con i sindaci del nostro territorio. Io do subito il benvenuto a Emanuele Feduzzi, sindaco di Ferminiano, per il suo secondo mandato. Buonasera, sindaco. Buonasera, Simona, e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. Allora, i numeri di telefono per intervenire in diretta sono sempre gli stessi, li vedete in sovrimpressione. 0721 86 14 33, se volete parlare appunto con i sindaco, ma potete inviarci anche un semplice messaggio, oppure con WhatsApp al 338 49 68 250. Io partirei, sindaco, dalle elezioni, perché la scorsa settimana i suoi concittadini le hanno confermato la fiducia, quindi lei ha vinto le elezioni con la lista civica di centrosinistra Ferminiano Futura. Ma con l'ausilio del cartello andiamo a vedere anche le percentuali, perché ecco, lo abbiamo fatto vedere anche la scorsa settimana, ha ottenuto 58,78% delle preferenze contro il 41 e 22 della sfidante. L'ex dirigente scolastica Delfina Betonica, 71 anni, del centrodestra capolista di Ferminiano Rinasce. Un distacco di 17 punti di percentuale. Secondo lei, qual è il motivo della vittoria? Che cosa vi ha contraddistinto? Beh, quello che ci ha contraddistinto è stato il lavoro di questi cinque anni. Probabilmente i miei concittadini e le mie concittadine hanno voluto premiarci per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni, un lavoro che è tangibile all'interno della nostra città, un lavoro concreto, quotidiano, soprattutto un lavoro fatto con passione e con il cuore. Perché quello che abbiamo messo davanti è stato il noi, davanti all'io, abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno, abbiamo cercato, purtroppo, abbiamo dovuto dire anche dei no, perché anche io stesso, magari a volte il cittadino pensa che si possa fare tutto, ma in realtà non è sempre così. Sì, ma tutto è stato fatto con una grandissima passione, perché il nostro obiettivo, l'obiettivo di tutti i miei collaboratori, l'obiettivo mio, era quello di poter aiutare Ferminiano, di poter fare qualcosa di buono per la nostra città e in questi cinque anni sono stati, nonostante due anni di pandemia, cinque anni di grandissimo lavoro e, ripeto, con grandissima passione mettendo davanti Ferminiano, davanti a noi. L'affluenza però è stata un po' scarsa, circa 64% degli aventi diritto al voto rispetto a 75% del 2016 e all'oltre 80% del 2011, però è stata una tendenza che si è vista un po' ovunque. Manterrà un rapporto di collaborazione con la minoranza, nonostante un po' quello che è emerso negli scorsi mesi? Sì, 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 no, assolutamente, ripeto, io sono stato anche, ho avuto anche un passaggio, cinque anni minoranza, so che cosa vuol dire essere minoranza o essere opposizione, sinonimo, ma con una caratteristica importante e diversa. Certo, la minoranza è importante, si dovrà cercare di lavorare, collaborare, la minoranza ha un sindacato ispettivo nei confronti della maggioranza e deve far sì che la maggioranza stia lì puntuale e sia pungolata in continuo per poter far sì che si possa lavorare al meglio e che soprattutto si lavori al 110% per la nostra città. Quindi io cercherò di collaborare, porterò rispetto, ovviamente esigo anche rispetto nei confronti dei miei collaboratori o anche per la mia figura, ovviamente, e certamente potremo andare d'accordo perché siamo a Fermignano, non siamo certamente a Roma, in piazza ci rivediamo sempre tutti, ci rivediamo tutti i visi e dobbiamo lavorare per la nostra città. Poi tra poco parleremo anche della nuova giunta perché sono usciti i nominativi, parleremo anche di progetti, ma una curiosità, la sua sfidante poi le ha inviato un messaggio per congratularsi con lei? Ancora no, oggi dopo una settimana ancora attendo a questo messaggio, ma alcuni dei suoi collaboratori mi hanno fatto arrivare la propria vicinanza, la vicinanza e soprattutto le congratulazioni dopo la vittoria, ovviamente, altri purtroppo non l'hanno fatto, però soprassido e andiamo avanti perché noi dobbiamo guardare per Fermignano. Oggi dicevo c'è stata questa prima riunione di giunta, una giunta composta da quattro assessori. Sì, esatto, oggi abbiamo avuto praticamente dopo una settimana di stop, ma in realtà un lavoro passivo perché abbiamo ascoltato o ascoltato soprattutto tutti i miei collaboratori, tutti i ragazzi che hanno collaborato con me in questo periodo appunto preelettorale e che hanno condiviso con me comunque sia anche la parte precedente della precedente legislatura, ho assentito tutti e ho delineato appunto la nuova giunta che è formata quindi da due uomini e due donne, dove appunto ci sarà Alessandro Betonica che è stato confermato vice sindaco, e ho cambiato le delega ad Alessandro e in questo momento Alessandro avrà i lavori pubblici, l'ambiente e la sanità, ed è stato confermato come vice sindaco, poi abbiamo Monica Scaramucci che sarà l'assessore al sociale, agli eventi e alle pari opportunità, poi avremo Fiorella Paolini che è stata confermata nel suo ruolo, quindi sport, personale, servizio al cittadino e avremo una new entry appunto che è Ubaldo Ragnoni che insieme a me ha percorso anche, ha condiviso anche il percorso della minoranza, quindi ormai sono 11 anni che mi sopporta, quindi mi sopporta da tantissimo tempo, al quale ho fidato la cultura, il turismo, il furlo praticamente perché dovremo ripartire anche su questa cosa e le partecipate. Lei c'era qualche delega? Assolutamente sì, io terrò l'urbanistica, le attività produttive, la polizia locale e l'edilizia scolastica. Beh comunque sono delle deleghe importanti? Sì, sono delle deleghe importanti, alcune perché stiamo facendo un lavoro già che proviene dal passato e quindi di conseguenza non potevo lasciare a metà, tanto è vero che anche lo slogan che ci eravamo dati era secondo tempo, per giocarci questo secondo tempo e anche qui dovevo giocarmi un secondo tempo su queste deleghe perché alcune già le avevo, comunque sia già nella precedente legislatura e ho dovuto riportarle per finire un lavoro che avevo già iniziato. Un po' anche in linea con quello che è stato negli anni passati il vostro pensiero, c'è una forte presenza femminile? Sì, esatto, quello che ho voluto innanzitutto è stato che nella lista, nella lista appunto quando ci siamo presentati, ci dovevano essere sei uomini e sei donne ed è stato così. Abbiamo deciso poi di fare che il sindaco era un uomo, cioè è un uomo e sono io ovviamente, mentre il presidente del consiglio in questo caso è una donna, è una ragazza, una giovanissima ragazza che è già da Gioacchini appunto, alla quale poi ho affidato anche il bilancio di tributi, quindi è anche una delega molto importante. È un consiglio alla nostra maggioranza diviso a metà, abbiamo tanti uomini, tante donne, quindi sarà un 4-4. Abbiamo un consiglio, è una maggioranza soprattutto molto giovane perché il più grande della maggioranza è il capogruppo che ha 50 anni, gli altri siamo tutti quanti abbondantemente sotto e quindi abbiamo dato, daremo sicuramente una spinta ulteriore praticamente alla nostra città come già abbiamo fatto nei 5 anni passati. Qualcuno purtroppo è anche inevitabilmente rimasto fuori, però insomma ha contribuito tanto al lavoro della gente. Ovviamente sì, gli altri 4 ragazzi che sono rimasti fuori, ovviamente hanno contribuito alla causa, hanno contribuito al lavoro, praticamente parlo di Antonio Feduzzi, Elisa Lazzarini, oppure che sono ragazzi insieme a Lucia Paoloni, che era il precedente assessore della cultura, che hanno lavorato senza sosta praticamente anche negli anni scorsi e in questo mese di campagna elettorale. Ma vorrei anche ringraziare una persona che è Arturo Romani, che è uscita e che oggi ha deciso di uscire dal Consiglio Comunale prima di iniziare la nuova legislatura per motivi personali, al quale devo tanto. Per me è stato nella precedente legislatura un braccio destro, mi mancherà tantissimo, è una persona che ho stimato e che stimo e che considero per me un secondo padre. Quindi di conseguenza ha deciso di uscire per dei motivi personali e lo ringrazio veramente da parte di tutti i ragazzi, di tutti i collaboratori, di tutti i ragazzi di Fermignano Futura per quello che ha fatto, perché l'impegno suo è stato veramente tanto e ringrazio veramente per tutto quello che ha fatto e per il supporto che mi ha dato. Il post-elezione è sicuramente un momento per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sia in campagna elettorale che nei cinque anni appunto precedenti, ma c'è qualche sassolino dalla scarpa che si vuole togliere? Beh, ce ne sono tanti, però in realtà... Si aspettava magari un atteggiamento diverso anche nei confronti dei nostri sfidanti. Nel senso che esatto, più che altro non mi aspettavo certe cattiverie che mi sono sentito dire, addirittura uno degli sfidanti, addirittura una serata, addirittura disse a me pagano per parlare male del sindaco, ed è una cosa veramente brutta. Però dobbiamo dimenticarcelo, no? Io penso che la politica deve essere una cosa alta, una cosa che comunque sia deve aiutare i cittadini nelle difficoltà, deve mettere in gioco le persone, deve soprattutto risolvere i problemi. Quindi scordiamoci questa cosa, in campagna elettorale a volte si cade troppo in basso pur di poter raccimolare qualche voto in più, o pensare di raccimolare qualche voto in più, quando in realtà magari si deve invece parlare della città. Adesso concentriamoci su Fermignano, abbiamo tanto da fare, quindi di conseguenza scordiamoci queste scorie che magari abbiamo avuto in questo mese di campagna elettorale e andiamo avanti. Prima di parlare dei progetti però vorrei ricordare soprattutto a coloro che non abitano a Fermignano che lei ha anche un altro lavoro, è anche molto importante perché è farmacista. C'è anche una novità che arriverà tra pochissimo? Sì, dai, a giorni da poco sono diventato titolare di una farmacia e quindi lavorerò a Fano. In realtà mi vedrete anche molto spesso a Fano perché appunto tra 15 giorni aprirò la mia farmacia a Canale Albani, quindi di conseguenza sarò anche parzialmente fanese. Mi sono spostato da Calcinelli, sono arrivato alla costa e sono arrivato ad essere titolare a Fano. Quindi è in prima linea, vede anche di persona quello che sta succedendo. Dal 15, ormai lo sappiamo tutti, per accedere nei luoghi di lavoro sarà necessario avere il Green Pass ed è aumentata anche la richiesta dei tamponi. Ad esempio qua nel nostro territorio, nel comune di Fano in particolare, mancano anche queste disponibilità, appuntamenti pieni. Nel vostro comune qual è la situazione? È uguale, è simile. Purtroppo è una situazione che si ripete in realtà in tutta la nostra provincia. C'è una forte congestione perché ovviamente con la limitazione del 15 di ottobre, che appunto è una deadline alla quale il governo ha dato, ovviamente tutte le farmacie si sono riempite di lavoro, in questo momento sono sovraccariche di lavoro. Io vedo anche i miei ex colleghi, con i quali ho lavorato oltre dieci anni, in questo momento stanno facendo turni estenuanti, dedicati purtroppo al fare tamponi. Ovviamente è una situazione temporanea, magari sicuramente si andrà a regime, e si cercherà di aumentare tutte le farmacie, probabilmente le proprie disponibilità, anche Confindustria stessa l'ha chiesto, quindi di conseguenza mi auguro dall'altro lato anche che le vaccinazioni possano aumentare e quindi andare a calare anche il numero di tamponi quotidiani che si devono fare. È un costo comunque anche per le farmacie? È un costo per le farmacie, sia di uomini, sia di farmacisti, quindi uomini o donne che lavorano all'interno delle farmacie, e ovviamente magari si può sottrarre quel servizio che invece quella cura, nei confronti magari del cittadino che si deve avere, magari stando al banco e spiegando soprattutto l'utilizzo del farmaco in maniera più pregnante, più anche precisa, anche più scrupolosa, mentre magari purtroppo si deve spostare, andare a fare magari anche altre attività extra sostanzialmente. Pensa sia corretto eventualmente allungare questo periodo dalle 48 alle 72 ore per la validità? Non sono io che lo può decidere, lo deve decidere il CTS. Personalmente mi sono sempre, sia come sindaco che come farmacista, in maniera scrupolosa mi sono attenuto a quello che il CTS ha sempre detto da il 7 di marzo del 2020, da quando è iniziata appunto questa fase pandemica, da quando fumo dichiarati per la prima volta zona rossa, e lo ribadisco ora, cioè nel senso che quello che noi ci dobbiamo fidare, ci dobbiamo fidare alla scienza, non ci dobbiamo fidare chiaramente agli stregoni, ma dobbiamo affidarci a coloro che studiano per noi, per far sì che si possa praticamente migliorare, e si possa soprattutto passare questo anno e mezzo, questi 18 mesi oltre che abbiamo vissuto, passarli al meglio, lasciarceli ormai nella memoria, nel cassetto della memoria, e viverli al meglio. Mi auguro solo che il CTS farà le proprie scelte, farà, e poi dopo in base a quello che ci dirà, ci dirà sì, portarlo a 72 o lasciarlo a 48 ore. Andiamo avanti con le priorità, sindaco. Quali sono per i prossimi anni? Parliamo intanto per i prossimi mesi. La prima in assoluto è chiaramente la nuova scuola primaria, in questi giorni è stato già improntato il cantiere, abbiamo avuto la fortuna, che ha vinto anche un'azienda del nostro territorio, quindi di conseguenza un'azienda del Pesarese, in consociato con altre due aziende, sempre una del Pesarese e una dell'Anconetano, e appunto quella che vedete anche nello schermo è la nuova scuola primaria che verrà realizzata, una scuola che, pensano a Simone da porta a porta, come ti dicevo prima dell'inizio, sono a 95 metri, ospiterà quasi 30 aule, autosufficiente da un punto di vista energetico, tu pensa solo che le aule sono state studiate con un progetto europeo, che si chiama Erasmus+, a quale ha partecipato l'assessore Uppaldo Ragnoni, a Cipro, quindi è stato studiato insieme all'Università di Cipro, è autosufficiente da un punto di vista energetico, come dicevo, i ragazzi avranno una palestra, avranno poi un campo da basket, un campo da volley, la pista d'atletica, l'orto botanico, un anfiteatro, avranno soprattutto tutta la domotica possibile, ad esempio le tende che scendono in base praticamente all'incidenza solare, oppure ad esempio le aule a due a due, si possono unire tra di loro in maniera tale che i ragazzi possano fare una lezione insieme, oppure ad esempio quello che abbiamo disegnato che a me piace tantissimo, che se si guarda dall'alto in realtà è come se fosse Fermignano, perché Fermignano è costituita da un corso, una piazza, un corso, una piazza, in realtà se uno guarda dall'alto praticamente il disegno della nuova scuola è proprio questa, è stilizzata in realtà come la nostra città e soprattutto quando si entra dal lato, in questo caso dal lato di Via Donizetti o dal lato di Via degli Orti, passeggiando all'interno del corridoio i ragazzi in realtà passeggiano all'interno della biblioteca della scuola, quindi avranno una biblioteca itinerante e tu pensi che l'aula magna, che è 270 metri quadri, si potrà dividere per tre, potrà essere tutta utilizzata, quindi tre aule da 90 metri, oppure utilizzare l'auto intera, quindi 270 metri, oppure addirittura aprire ulteriormente e diventare 400 metri quadri, quindi disponibile per tutta la scuola, per raccogliere tutti i ragazzi della nostra scuola, perché ospiterà 500 bambini. Quindi una scuola innovativa, sostenibile per tantissimi bambini, a questo punto che potranno arrivare anche da più parti di Fermignano, sono veramente tanti gli alunni che possono frequentare quella scuola. Qual è il costo? Il costo sono 5,5 milioni di euro, ed è stata finanziata attraverso il piano di lista scolastica 18-20 per 4,1 milioni di euro. Un milione di euro proviene dal GSE, che proviene dal fatto che abbatteremo la vecchia scuola, praticamente una scuola fortemente energivora, costruita negli anni 50, quindi anche con la concezione tecnologica degli anni 50, e una parte per 400-500 mila euro verrà finanziata dal comune, quindi di conseguenza che ha fatto un cofinanziamento. E' il lavoro più imponente che il comune abbia mai fatto negli anni, devi pensare soltanto questo. La scuola occupa una superficie all'incirca tra verde e coperto, diciamo, superficie coperta di oltre 10 mila metri quadri. Il costo, cosa abbiamo detto, il tempo di realizzazione? 485 giorni, quindi circa un anno e mezzo sostanzialmente, perché comunque sia una scuola in legno, è una scuola in legno, quindi una scuola in prefabbricato, che è quindi di veloce costruzione. Però è quello che ti posso dire soltanto questo, l'ultima perla che abbiamo fatto è il fatto della domotica, gli abbiamo dato addirittura un robot che taglia l'erba con l'app del cellulare. Però, anche il signor Vincenzo ci chiede con quali priorità comincerete il nuovo mandato, perché questa è una delle tante. Poi, ad esempio, c'è anche la sala polivalente. Sì, è proprio lì accanto in realtà, perché quell'area, l'area praticamente di Via Milano, via Donizetti, via degli Orti, è diventata l'area servizi, accanto alla scuola primaria, praticamente abbiamo già l'asilo, quindi la scuola dell'infanzia, e inoltre, attaccato sempre a quella, abbiamo il centro anziani, la Croce Rossa, la sede dell'ANFAS, del Vascello, con l'associazione Ollus, che lavora all'interno del nostro territorio di volontariato, e che fa addirittura un ambulatorio sociale, quindi di conseguenza che non fa pagare nulla. E proprio nel giardino del centro anziani costruiremo la nuova sala polivalente, una sala che manca nel nostro territorio, una sala di quasi 400 metri quadri, che sarà attaccata al centro anziani, che ci permetterà di fare teatro, ci permetterà di fare le piccole rappresentazioni teatrali, vedere un cinema, ma anche fare un convegno, o poter fare magari anche una serata danzante, o quel che sia, praticamente, ed è stata costruita parzialmente con un fondo europeo, per 130 mila euro, mentre invece 170 mila euro sarà l'investimento dell'amministrazione come cofinanziamento. a dicembre contiamo di iniziare i lavori, in questo momento è in fase di progettazione esecutiva, chiaramente c'è stato uno stallo con il fatto che l'amministrazione è stata in pausa un mese sostanzialmente, ha perso un mese di lavoro, stiamo facendo già il progetto esecutivo, quindi mi auguro che per dicembre si possono già iniziare i lavori. Quindi un luogo di socialità, di aggregazione? Assolutamente sì. Poi dopo il periodo del Covid fondamentale? Assolutamente sì, io penso che sono quasi un anno e mezzo che non dò un abbraccio da una persona oltre che non sia mia moglie, quindi di conseguenza questo dovrà essere quel luogo della rinascita e dobbiamo puntare come amministrazioni nel prossimo periodo a far rinascere, far ricondividere e fare quel senso di comunità. E appunto una sala come questa in un luogo come questo, cioè accanto alle scuole, accanto alla scuola primaria, accanto alla scuola dell'infanzia, vicino alla Croce Rossa, ai centri anziani, dovrà essere quel luogo, quel melting pot, chiamiamolo così, intergenerazionale che ci permetterà di unire ancora di più la città. Invece come diceva prima la scuola elementare dovrà essere abbattuta? Sì, allora tu devi pensare a questo Simona. La scuola nuova, la scuola primaria, praticamente in realtà è l'unione di due scuole, di due plessi che ospitano già in totale 440 bambini che è Calpino e Fermignano. La scuola di Calpino che praticamente vive in un'area, è situata, scusate, nella via principale del paese, chiaramente verrà mantenuta ma verrà trasformata praticamente su utilizzo, diventerà l'area per, ad esempio, il centro compito di Pomeridiano, il centro famiglia 06, verrà quindi portato tutto quanto là, tutti i servizi che l'amministrazione fa per l'aiuto compiti, per l'attività per le famiglie, verrà tutto portato lì all'interno di quella struttura. La scuola elementare, invece di Fermignano, verrà abbattuta. Perché verrà abbattuta? Perché appunto il GSI ci ridà un milione di euro in più, in più devi pensare che se l'avessimo dovuta sistemare sismicamente ci costava 2 milioni e 100, quindi non era conveniente economicamente. Quello che vedi in questo momento è un render, praticamente, di come sarà, praticamente, l'area di via Carducci. Quella che vedi è la scuola media che abbiamo sistemato sismicamente, abbiamo inaugurato a luglio 2020, abbiamo inaugurato, appunto, e ha fatto il lavoro di miglioramento sismico e di miglioramento energetico, quella che rimane in piedi, mentre tutta l'area verde, praticamente, sarà l'area dove attualmente ospita la scuola elementare e la palestra che verrà completamente abbattuta. Ci permetterà di riqualificare l'area a questo lavoro perché, vedi, è diventato un'area verde rispetto a un'area dove in questo momento è satura di cemento. Sarà un anfiteatro, ci sarà, c'era un playground per i ragazzi della scuola media. Il murales del Bramante verrà ripetuto, verrà rifatto completamente, verrà rifatto da un artista di carattere internazionale. Ecco, vedi, questo, vedi, sarà un anfiteatro fatto a gradoni, praticamente, tutto quanto in erba. Ci sarà una congiunzione con il giardino già presente di Piazza Domminzone, quindi una riqualificazione verde del centro della città perché qui ci troviamo al centro della città sarà quindi un nuovo polmone e ci permetterà soprattutto oltre che di desaturare da un punto di vista del cemento anche di togliere le macchine perché noi abbiamo un grandissimo problema di auto perché se tu pensi che lì abbiamo le scuole medie e le scuole elementari quindi ci sono all'incirca sui 500 bambini, 500 ragazzi, 500 famiglie. Servirà un ampio parcheggio. Esatto, con il fatto che noi portiamo via più della metà e che vengono portate tutte in un'altra area abbiamo una desaturazione in questo caso di autoveicoli in quella zona. Parlando invece di ristrutturazioni qui andiamo nel campo dell'asilo nido ma anche del municipio. Esatto, sì, a breve abbiamo già firmato il contratto per quanto riguarda il municipio quindi di conseguenza a breve partiranno i lavori di riqualificazione energetica in questo caso di tutta la struttura di via Massini cioè il comune nuovo chiamato da noi da tutti i fermiglianesi verrà completamente ristrutturato abbiamo anche lì vinto un fondo europeo da 500.000 euro e altri 500.000 euro l'intervento viene pagato dal GSE quindi per un milione di euro verrà rifatto tutto a livello energetico passiamo a livello tecnico dalla classe G a classe NZ c'è quindi una struttura autosufficiente da un punto di vista energetico mentre siamo partiti dalla classe peggiore ci permetterà di rifare completamente i tetti un isolamento tutte le finestre e quindi anche di disegnare una parte ridisegnare scusa una parte dell'esterno perché in questo momento è caratterizzato dai mattoncini ci sarà invece la muratura quindi di conseguenza si ridisegnerà anche come il municipio attualmente mentre per quanto riguarda l'asilo nido sono in campo due lavori uno che vediamo quello che vedi nelle immagini è la base della nuova aula all'esterno in questo momento stiamo facendo la costruzione di un'aula all'esterno stiamo rifacendo tutto il giardino da un punto di vista pedagogico stiamo facendo il primo step proprio in questi giorni terminerà il cantiere indicativamente la fine di questo mese dovrà terminare e poi c'era un secondo step molto importante per il quale siamo stati finanziati poco più di un mese e mezzo fa per quasi un milione di euro per l'adeguamento in questo caso quindi il massimo grado di sicurezza sismico dell'asilo nido quindi un lavoro molto importante imponente soprattutto che ci permetterà di riqualificare completamente tutta la struttura però in questo senso è importante anche un lavoro dell'ufficio Europa assolutamente sì tanto è vero che in questi giorni di pausa con lei che gestisce l'ufficio Europa Ilaria in questo caso si trovava proprio per un corso d'aggiornamento in Olanda non abbiamo sprecato tempo nel senso che con Ilaria è un mese che si trova appunto in Olanda per innanzitutto aggiornarsi sul fatto del PNRR sul fatto che in questo momento si sta lavorando anche sulla stesura dei nuovi POR anche venerdì ho partecipato anch'io stesso alla riunione che la regione ha fatto con tutti i sindaci ad Urbino a quale abbiamo fatto tre proposte importanti una sullo sport una sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici e una soprattutto sulla riqualificazione delle zone industriali da un punto di vista green e insieme a Ilaria appunto appena tornerà dall'Olanda partiremo di nuovo con l'ufficio Europa Dobbiamo ancora parlare di altri lavori pubblici di sport di sostenibilità ma dobbiamo fermarci per qualche istante a tra poco Bene siamo tornati in diretta con il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi ripartiamo dallo sport già negli scorsi anni avete fatto tanto per questo settore perché ci sono dobbiamo dirlo anche diverse realtà sportive associazioni Assolutamente sì noi abbiamo investito negli anni scorsi circa 3,5 milioni di euro per riqualificare tutte le strutture sportive che avevamo davanti noi penso che abbiamo risistemato ad esempio lo stadio dove abbiamo fatto la prima tribuna fotovoltaica quindi che alimenta ed è risolto sufficiente da un punto di vista energetico l'utilizzo delle lampade dell'antistadio riqualificato l'antistadio rendendo a norma finalmente dopo anni di richieste le lampade perché quando sono arrivato non si poteva neanche giocare perché il portiere non vedeva neanche la palla invece adesso praticamente abbiamo fatto una riqualificazione luminosa e in questo caso praticamente si può giocare addirittura fino alla serie D notturna quindi di conseguenza è stato omologato riqualificato energeticamente tutta la struttura degli spogliatoi che si trovano sotto la tribuna dicevo prima la tribuna fotovoltaica tutta la recensione intorno il pala BCC penso poi al Bike Park che è la nuova struttura che abbiamo realizzato la prima praticamente delle marche certificate dal CONI ma soprattutto che è diventata una scuola di ciclismo regionale di fuoristrada in questo momento ospita 77 bambini che provengono da tutta la provincia perché provengono anche qui da Fano provengono per un punto di riferimento ed è diventato un punto di riferimento per la scuola di mountain bike per i bambini poi penso al palazzetto dello sport dove quando sono arrivato non c'era neanche la minima sicurezza o il bocciodromo che è stato uno degli interventi più importanti dove è stato portato via l'Ethernet prima cosa perché il tetto era completamente in Ethernet è stato riqualificato e messo in sicurezza e tu pensi Simona quando sono entrato non avevo neanche riscaldamento per giocare le bocce d'inverno si dovevano riscaldare praticamente con la classica stufa a gas a GPL perché altrimenti non riuscivano neanche a riscaldare non potevano neanche giocare quindi non avevano neanche le minime condizioni invece in tutte queste strutture sono state rifatte completamente ed sono state aggiunte in realtà rispetto a quelle che noi abbiamo due strutture in più una al Bike Park e una al Pallabidio che è stata appunto inaugurata circa un mese fa e che ospita in questo caso la Pallavolo e il Fuzzal praticamente una nuova tensostruttura anche questa completamente nuova nata da zero nata in questo caso dove l'amministrazione ha investito circa 500.000 euro e che appunto utilizzato in questo momento ospita circa 150 ragazze per quanto riguarda la Pallavolo una prima squadra maschile e chiaramente anche il Fuzzal che appunto l'anno scorso prima del Covid fumo promossi quindi di conseguenza sono salite anche dei categori a questi ragazzi e in questo momento hanno una nuova casa l'ultima che ci manca praticamente è il Karate è il Karate ho parlato con il Presidente abbiamo già un progetto in realtà avevamo partecipato all'ultimo Sport e Periferie indietro dal Governo non siamo stati finanziati insieme a Fiorella che è l'assessore allo sport ci siamo presi un impegno che è appunto quello di dare a questa struttura dare a questi ragazzi una struttura degna per fare il Karate una struttura qualificata appunto in questo caso perché lo dobbiamo anche a loro abbiamo sistemato tutte le strutture di Fermignano ultima poco meno di 20 giorni fa siamo stati finanziati anche per il crossodromo perché grazie al lavoro che ha fatto il Presidente in questo caso Michele Di Lorenzi in collaborazione con noi con l'amministrazione siamo riusciti ad avere a vincere il bando dello Sport e Periferie in questo caso dove sono stati finanziati 630.000 euro e permetterà di rifare completamente il crossodromo alla Ginestra uno dei crossodromi più amati pensa che Valentino Valentino e tutti i ragazzi della VR46 sono spesso ospiti appunto del nostro crossodromo perché appunto è una delle piste più belle delle marche però a proposito di fondi europei potrete intervenire anche sull'illuminazione pubblica esatto sì anche qui siamo stati bravi devo dire bravi soprattutto nel mio ufficio tecnico e insieme a tutti i suoi collaboratori quindi a Luca Storoni che hanno lavorato praticamente alla Cremente per poter vincere questo nuovo bando europeo che era uscito da parte un POR in questo caso che ci ha permesso di finanziare circa 300 mila euro poco meno di 300 mila euro che ci permetterà di cambiare 221 lampade quindi di conseguenza rifare un relamping di tutta la dorsale che attraversa Fermignano quindi che parte da via Falasconi fino ad arrivare attraverso tutto il centro storico tutta Calpino che è una frazione molto importante la frazione praticamente di dietro al Palassetto fino ad arrivare praticamente a via Sant'Agostino verranno completamente rifatte a inizio 2022 credo inizieranno i lavori quindi di conseguenza sarà una riqualificazione energetica importante per la nostra città con un risultato anche tangibile perché basterà vedere praticamente anche le bollette perché pensa che il comune di Fermignano spende circa 200 mila euro 250 mila euro di corrente l'anno pur essendo un piccolo comune e appunto facendo questa rivoluzione luminosa avremo un forte abbattimento sia di consumo di anidride carbonica sia anche delle bollette perché aggiungo anche questo ogni anno abbiamo curato un quartiere ogni anno abbiamo rifatto la pubblica illuminazione di un quartiere e in questo momento per il 2022 appunto faremo questo intervento massivo perché i prossimi giorni partiranno i lavori di riqualificazione luminosa della Pieve che è un quartiere molto importante di Fermignano e poi partirà appunto per il 2022 questo intervento massivo che coinvolge in realtà diverse parti della città ecco andiamo adesso nelle strade dei vari quartieri avete in progetto degli asfalti piuttosto delle piste ciclabili allora abbiamo messo in programma diverse cose abbiamo stanziato 180 mila euro a luglio per appunto nuove asfaltature in questi giorni ne abbiamo fatto una piccola parte perché abbiamo fatto via Giotto via Carso via Caprera via Gorizia vabbè alcune parti principali via Falasconi che è una delle vie principali di Fermignano i prossimi giorni dovranno iniziare i lavori a Calagostina a Villa Furlo inoltre la strada di Pagino praticamente che è una strada praticamente che è secondaria ma è una frazione molto importante della nostra cittadina quindi una frazione all'interno della riserva statale che verrà completamente rifatta anche tutta quella tutta quella via lì verrà rifatta completamente che porta al deposito di acqua praticamente che alimenta appunto le frazioni di Villa Furlo e Pagino e verranno rifate completamente oltre chiaramente al piano delle ciclabili che è uno degli obiettivi principali che ci siamo dati in questi giorni stiamo facendo completando i lavori del nuovo marciapiede di via Tasso sono circa 600 metri di marciapiede al quale poi abbiamo già aggiunto l'anno scorso la nuova illuminazione qui verrà fatta anche una nuova illuminazione pedonale e tutta l'asfaltatura della via che arriverà praticamente fino a avanti il Palabicicic che coprirà delle buche che sono ataviche io ero piccolissimo e c'erano degli avvallamenti stradali ho quasi 40 anni o meno di 40 anni ma quasi 40 anni e ancora ci sono sono presenti finalmente le andremo a coprire prima ha parlato del furlo appunto di questa riserva naturale che lì ci sono dei progetti più che altro dobbiamo iniziare ad aprirlo anche venerdì ho chiesto al presidente Acquaroli in questo caso perché ci siamo riuniti con il presidente Acquaroli tutti i sindaci dell'alta valle del Metauro ho chiesto sia al presidente Acquaroli poi ho chiesto chiaramente anche al suo assessore in questo caso che è Stefano Guzzi che ho visto sabato se era appunto un impegno insieme perché in questi giorni ci verrà consegnato il progetto esecutivo finalmente di questo masso per la messa in sicurezza di questo masso che si trova pericolante a 85 metri di quota insieme a un'altra parte della parete che hanno determinato la chiusura da febbraio appunto ricordo che il masso si trova purtroppo in una proprietà che non è del comune ma di Enel quindi una particella che purtroppo nella quale noi non abbiamo giuridizione abbiamo fatto questo progetto esecutivo nei prossimi giorni insieme alla regione praticamente abbiamo chiesto alla regione di accelerare praticamente la possibilità di incontrare Enel nel più breve tempo possibile in maniera tale che si possano risolvere finalmente questi problemi e dare l'apertura di questa via importante che la via Flaminia è soprattutto una via importante da un punto di vista turistico appunto il prima possibile in maniera tale che finalmente si possa dare la riapertura di quest'area andiamo avanti con quello che ci manca anche con l'ausilio della grafica ad esempio si è parlato di una moschea e anche questa è una novità in realtà c'è però è la prima della provincia la prima della provincia e se non sbaglio la seconda delle marche in realtà gli abbiamo dato dignità nel senso che noi abbiamo un'associazione culturale islamica che è presente nel territorio da oltre 20 anni abbiamo una fortissima comunità islamica Fermiano ha comunque si chiama una grossa quota di persone che provengono da altri paesi perché essendo un paese dove c'è una forte industrializzazione ovviamente c'è anche un forte tasso di immigrazione di gente che proviene dall'estero e abbiamo fatto appunto insieme con tutto il consiglio comunale della precedente legislatura abbiamo votato all'unanimità la possibilità di trasformare il luogo dove i ragazzi possono professare il culto islamico e in questo caso possa diventare moschea quindi tutto quanto il consiglio comunale all'unanimità quindi centro-destra centro-sinistra allora c'erano anche i 5 stelle votammo all'unanimità questo passaggio importante del piano regolatore anche perché ripeto è giusto è corretto che tutti possano professare la propria fede e tutti possano poterla fare in luoghi sicuri tranquilli ed essere soprattutto in regola e ti posso dire anche di più Simona che nel periodo Covid Fermiano è stato il primo paese della nostra provincia uno dei pochissimi delle Marche a dare una parte del cimitero un giardino del cimitero ad altri culti non esisteva quindi in questo caso tutte le persone che magari avevano un culto diverso rispetto a quello cattolico o che avevano fatto un rito diverso comunque da quello cattolico erano obbligati a potersi potersi inserire nel cimitero in tutte le parti dove comunque ci sono simboli e riferimenti cattolici abbiamo dato praticamente la possibilità abbiamo aperto una brezza siamo stati i primi poi ci hanno seguito anche Vallefoglia Pesaro Cagli altre città ci hanno preso ad esempio questo grazie a un consigliere al nostro consigliere che è Jacinotman che è un avvocato appunto che ha lavorato anche in Commissione Europea fino a pochi mesi fa ha lavorato quindi di conseguenza che ha fatto da apripista appunto abbiamo dedicato un'area dedicata ad altri culti quindi un'area di sepoltura dove praticamente qualsiasi persona che ha un altro culto rispetto al cattolico o rispetto al civile può essere seppellito andiamo avanti guardando sempre al futuro perché Fermignano sarà più sostenibile come ha promesso anche in campagna elettorale quali sono in questo caso i progetti? partiamo innanzitutto da una cosa Fermignano è partita quando sono partito come sindaco ricordo gennaio 2017 aveva dei picchi di raccolta differenziata che aggiravano intorno al 20% in questo momento siamo uno tra i comuni più ricicloni delle marche da tre anni in maniera continuativa e siamo diventati praticamente comune rifiuti free quindi comune che ha un tasso di rifiuti praticamente di produzione del secco molto bassi rispetto a tutti gli altri e siamo abbondantemente sopra l'80% di raccolta quello che andremo a fare nei prossimi anni appunto sarà invece di andare verso una raccolta porta a porta e andremo a lavorare su una tariffa puntuale quindi quanto produci tanto paghi andremo poi praticamente abbiamo detto una Fermignano deve essere più sostenibile e abbiamo provato il primo piano dei ciclabili che Fermignano non aveva nonostante sia un paese completamente piatto a 200 metri di quota sul livello del mare abbiamo disegnato il primo piano dei ciclabili insieme ad un architetto fermignanese abbiamo lavorato a quattro mani insieme chiaramente anche all'ufficio tecnico e abbiamo creato questo piano da questo piano appunto stiamo sviluppando tutta la viabilità la futura viabilità e soprattutto gli vari interventi delle ciclabili e pedonali in questo caso anche dei nuovi marciapiedi che verranno costruiti nei prossimi anni aggiungo anche questo che quello che si andrà a fare appunto sarà anche una rivoluzione a LED questi anni abbiamo lavorato facendo praticamente una frazione all'anno andremo ancora di più appunto come dicevo prima con il progetto europeo ma anche con altre attività che andremo a fare appunto a migliorare questa attività quindi di abbattimento in questo caso di produzione di energie decarbonica di consumo di energia elettrica sia attraverso l'utilizzo di nuovi di nuovi impianti come no come abbiamo pensato sulla pubblica illuminazione ma soprattutto sulle strutture penso alla nuova scuola penso al comune al palazzo comunale che è stato trasformato tutti e due due strutture autosufficienti da un punto di vista energetico ti dico solo questo il palazzo comunale andrà a consumare circa l'85% in meno rispetto a quello che consuma adesso è un risparmio importante assolutamente sì poi riqualificazione delle aree verdi ma anche la frazione di San Silvestro che al momento scarica sul fiume sul metauro esatto parto dalla prima riqualificazione delle aree verdi abbiamo lanciato un hashtag che abbiamo usato come tema per tutti i cinque anni un giardino l'anno quindi andremo a lavorare e a continuare per fare un nuovo giardino l'anno con la riqualificazione dei giardinetti dei nostri ragazzi quindi con i vari giochi e che altro oppure anche comunque sia con il verde e abbiamo detto anche nell'ultimo anno abbiamo migliorato molto anche la cura del verde in questi giorni praticamente partirà l'ultimo taglio stiamo aspettando che termini la pioggia praticamente incessante ormai da una settimana ce n'era bisogno dopo un'estate così arida in realtà e quindi praticamente sarà fatto l'ultimo taglio prima dell'inverno quindi in modo tale che tutta l'erba possa essere al meglio esatto poi partirà il piano di potature partirà quello annuale classico praticamente annuale quindi con una cura del verde molto più dedicata per poi praticamente diciamo la frazione di San Silvestro la frazione di San Silvestro è una frazione importante per la nostra città ha due problemi in realtà uno praticamente l'abbiamo anzi tre problemi uno l'abbiamo risolto che era quella della sicurezza stradale facendo un nuovo marciapiede nella via principale il secondo praticamente quello che dicevi tu Simone quello che scarica ancora purtroppo nel fiume è abbiamo 500 abitanti quindi una frazione molto importante del nostro paese e nei prossimi giorni inizieranno i lavori appunto grazie a un finanziamento che abbiamo avuto dato per 250 mila euro di rifacimento del sistema fognario e di collegamento del sistema fognario al depuratore che si trova a Muraglione quindi nei prossimi giorni inizieranno finalmente i lavori lavori che si attendono da sempre lavori perché pensi anche ancora siamo nel 2021 abbiamo una frazione purtroppo ne abbiamo anche un'altra ancora che scarica nel fiume ma cercheremo di mitigare anche questa e San Silvestre ha il terzo problema che è la pubblica illuminazione insieme a questi lavori praticamente verranno rifatti anche la parte sottostante dei sottoservizi in questo caso di San Silvestre per quanto riguarda la pubblica quindi con un progetto step e chiaramente anche l'area asfaltatura che attendono ormai anche quegli danni e poi ci sono anche delle volontà da parte vostra di realizzare o perlomeno dare una maggiore attenzione ai centri antiviolenza abbiamo parlato anche all'inizio di questa puntata delle donne dell'importanza del mondo femminile ecco anche qui state pensando di aumentare il contributo allora noi siamo stati e saremo un'amministrazione molto attenta alla pari opportunità abbiamo lavorato da subito con una manifestazione che si chiama Mamma non mamma abbiamo lavorato poi con il comune di Fano con impronte femminili con Sara con Chiarini in questo caso proprio perché crediamo fortemente che ci debba essere la pari dignità la pari opportunità tra uomo e donna ripeto la mia giunta è paritetica il presidente del consiglio è una donna essendo che un uomo in questo caso abbiamo deciso nelle varie commissioni quando adesso andranno create cercheremo di mantenere anche lì la rappresentanza identica tra uomo e donna proprio perché vogliamo dare un segnale abbiamo lavorato tantissimo con tante associazioni del nostro territorio proprio con Mamma non mamma che è diventata una delle manifestazioni principali della nostra provincia abbiamo avuto anche personaggi importanti penso a Tako Ben Mohamed che è una fumettista internazionale penso a personaggi che hanno vinto il premio strega e quindi di conseguenza personaggi molto importanti che hanno portato la loro testimonianza e lavoreremo appunto in questo quinquennio per due cose uno come riferiamo ogni anno come abbiamo fatto nel 2021 un consiglio monotematico ogni 8 di marzo dedicato appunto alla donna e alla violenza di genere in realtà e poi abbiamo deciso che cercheremo di lavorare per il prossimo quinquennio per avere uno sportello magari anche una parte dello sportello come è fatto in questo momento Urbino come è riuscito a fare Cagli appunto anche all'interno della nostra città perché abbiamo la fortuna di avere tante associazioni del nostro territorio che lavorano su questo tema e che stanno lavorando veramente a testa basse da 5 anni e in questo momento stanno progettando ieri ho visto in diretta appunto anche la riunione di quella che sarà il prossimo mamma non mamma cioè quello 2021 2022 quindi di conseguenza ho assistito al primo incontro che sono stati fatti da queste associazioni e il calendare che vogliono stilare un calendare molto importante voglio ricordare anche questo che Ferminiano è stato il primo comune che ha dato ad esempio il patrocinio anche al Gay Pride che si fu a Ancona quindi proprio perché non la dobbiamo lasciare indietro a nessuno tutti quanti dobbiamo essere pari perché abbiamo pari dignità tutti quanti e siamo i primi a combattere appunto queste disparità e poi parliamo di eventi eventi cultura anche in questo caso abbiamo delle foto eccola qua Ferminiano per la cultura ci sono tanti eventi appunto che avete lanciato ci sono tante iniziative culturali che immagino intendiate portare avanti certo prima di tutti abbiamo un festival che si chiama Staccia Minaccia un festival dedicato ai bambini un festival di letteratura dedicato appunto ai bambini che ha portato a tanti workshop questa è una delle foto di quelle delle giornate sono workshop che portano anche a livello formativo perché abbiamo anche praticamente una parte formativa dedicata anche agli insegnanti una parte sono poi dopo ci sono letture presentazioni di libri ma soprattutto ci sono dei momenti dedicati ai bambini completamente dove si no Fermiano poi e Fermiano fanno la città dei bambini quindi di conseguenza tanto di più noi dobbiamo imparare da voi però noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di lavorare in questi anni questo qui devo dire grazie a Dupaldo Ragnoni quindi che è l'assessore alla cultura attuale al precedente che era Lucia Paoloni che hanno lavorato con tante associazioni del nostro territorio a partire dall'Isia ad esempio quindi anche che ha sempre curato la grafica di questo festival e che hanno permesso di creare ormai un brand che è questo Staccia Minaccia che porta tantissima gente soprattutto anche da fuori non solo da Ferminiano ma da fuori che porta appunto a collaborare anche nei vari esili praticamente insieme ed è veramente una bellissima attività e sarà riproposta appunto nel prossimo nel prossimo periodo penso poi a Popoli in Festa che è una delle manifestazioni che abbiamo lanciato per unire tutte le etnie che sono presenti all'interno del nostro territorio che è una due giorni dedicata appunto all'enogastronomia e alla cultura di tutte le persone che vengono da fuori penso solo che c'era gente che veniva dal Benin dagli stand con il loro cibo dal Marocco tanto che dall'Iran oppure che penso magari dall'Albania e ognuno di loro ha messo praticamente il proprio cibo la propria cultura in piazza portandoli nel luogo principale della nostra città è un progetto che poi ho presentato anche a Bruxelles ho avuto l'occasione di presentarlo a Bruxelles e che anche a noi si è unito a Gradara negli ultimi anni abbiamo lavorato insieme appunto su questo progetto che si allarga esatto che si allarga quindi ancora di più penso poi voglio dire alle due manifestazioni principali di Fermiano il Paglio della Rana al Bicicolo Ottocentesco alle varie mostre che sono state fatte e l'ultimo il progetto che stiamo facendo in questi giorni che si chiama quelli del 2020 purtroppo è traslato da una causa della pandemia che è un progetto di album fotografico di tutta la città cioè stiamo fotografando tutte le famiglie di Fermignano come ricordo perché noi siamo abituati con il nostro smartphone a fare la foto e tenerla lì temporaneamente no noi faremo un album e in questo caso Davide e Andrea si stanno curando praticamente sono oltre un anno che viaggiano a spizziche bocconi ovviamente perché purtroppo la pandemia ci ha rallentato per tutta Fermignano a fotografare tutta la città era un progetto di vent'anni fa l'abbiamo ripreso l'abbiamo rimodernato verrà esposto creeremo quest'album praticamente che tutte le famiglie potranno avere verranno fatte delle mostre dedicate appunto già ne abbiamo fatta una come erano le foto vent'anni fa la stessa persona e com'è cambiata com'è cambiata la città abbiamo già fatto una prima mostra la faremo successivamente e terminerà appunto entro la fine di questo anno proprio perché per Natale vogliamo consegnare ai fermianesi questo album dedicato alla città perché io ricordo ancora il giro vedo quello del 2000 si chiamava Quelli del 2000 che era il primo album che fu fatto io avevo 18 anni quando fu fatto mia moglie addirittura non mi aveva neanche riconosciuto per darti vedere quanto siamo cambiati quanto siamo cambiati però è la storia della nostra città che rimane impressa rimane impressa lì ultimo non ultimo penso praticamente alle tante attività che sono state fatte in questi cinque anni mi ricordo non si poteva più fare il calcetto in piazza una cosa semplice l'abbiamo riportato abbiamo riportato lo sport in piazza abbiamo portato una serie di mostri importanti penso Gaggi e Valentini che sono due status symbol del nostro territorio per quanto riguarda l'incisione quindi abbiamo lavorato tanto e tanto ne faremo perché non ultimo abbiamo sistemato la biblioteca che è il cuore pulsante della cultura di una città certo per giovani e adulti le chiedono un telespettatore progetti futuri per le rotonde a Fermignano? sì allora a breve mi auguro che possa ANAS finalmente inizi i lavori di costruzione delle due rotonde principali cioè quella all'entrata ovest est del paese in questo caso si chiama ex consorzio praticamente è una quella è entrata ovest quando si scende da Urbagna e a est praticamente sarebbe la rotonda della IMAB viene chiamata così dai fermignanesi e sono le due rotonde principali che praticamente dovranno essere costruite abbiamo già firmato praticamente gli accordi con ANAS praticamente in questo momento ANAS sta finendo di fare gli appalti sostanzialmente mi auguro che il prima possibile si possono creare anche perché sono due rotonde in due punti fondamentali dove accadono sempre incidenti quindi di conseguenza l'abbiamo chiesto l'abbiamo voluto fortemente ANAS ce l'ha accordato e dovrebbero partire a breve Sindaco direi che abbiamo toccato un po' a tutti i temi abbiamo parlato di progetti di quello che è stato fatto ringraziamenti anche Sassolini tolti dalle scarpe speriamo di riaverla presso nei nostri studio vorrei ringraziare il regia il lavoro dietro le quinte di Riccardo Sora e di Cristiana Guerra grazie a lei per essere stato nostro ospite grazie a voi per avermi ospitato siete sempre gentilissimi grazie un saluto anche a tutti i nostri telespettatori primo cittadino torna lunedì prossimo arrivederci a tutti i nostri